alla... siamo qui nel mio canale nel tuo o nel mio? nel mio, nel mio ah scusa, va bene passiamo alla cosiddetta debutante debutante in teatro che insomma ritorna un po' anche al canto ci diamo il microfono subito a Gloria grazie intanto tanti auguri a tutti io appunto è il mio debutto in teatro quindi mi auguro che veniate tutti a a vedermi, vi ringrazio tanto tanti auguri, tanta felicità e tanti bacioni ciao domani primo dell'anno ricordo a tutti che è obbligatoria la lenticchia perché la lenticchia porta soldi la lenticchia si può mangiare sia a pranzo che a cena naturalmente ci stanno delle persone che continuano a mangiare lenticchia con la speranza di soldi anche 10, 15, 20 giorni un mese dopo il primo dell'anno basta andiamo via io faccio tanti auguri a tutti buon 1980 un felicissimo anno nuovo e adesso andiamocene perché altrimenti c'è il rischio anche che ci pigliamo qualche materasso e qualche vaso da notte in testa buonanotte arrivederci